allora angelo non so non so cosa dirti te mi dici poi però è quindi volevo ora venirti a proporre una cosa alla tua valutazione come anche per la discussione solo che vedo che la prima pillola ha avuto i commenti sono stati abbastanza un po fine a se stessi ora cosa devo fare non devo mangiare non devo fumare capirai io penserei a seguire quello che dico perché obiezioni alle mie proposte discussioni non ce ne sono incredibile proprio è bisognerebbe andare a vedere ma ma finiamola qui ecco così io ritengo di mettere nel nel piatto una cosa così una cosa abbastanza interessante anche se per alcuni forse senza apparente connessione e c'è una specie di sguardo uno scorcio verso perché avevamo parlato no di vedere i punti vuoti nella narrazione mostrologica avevamo accennato l'altra volta tra il 68 e il 74 e poi ci proponevamo di andare a guardare tra il 74 e l'81 ma prima forse ci conviene andare indietro io ti ringrazio se mi c'è un po di spazio perché la cosa bella è che mi dai carta bianca e a questa è una dimensione che mi permette come quando fai convegni mi permette veramente di esprimere allora spero che questo piccolo contenuto perché sto lavorando proprio sull'approfondimento del contesto prima del 60 proprio in chiave mostrologica cioè il mostro noi lo guardiamo io e te più o meno siamo coetane il mostro lo guardiamo no ti guardi indietro e guardi gli anni 60 e 68 e 74 insomma bisogna immaginare uno che i piedi ci aveva no 25 30 anni prima uno che è nato ha visto gli anni 40 50 e quindi ora ascoltate se poi vi fa schifo la smetto non vi faccio più le pillole se non vi piace sentite se dice come discorso prima repubblica in nero questo sarà un capitolo che farò prima repubblica in nero scenario 48 58 dice fra la confusione delle agitazioni politiche delinquenza comune e malavita organizzata sembrano tornare a prosperare dopo lo sbandierato appannamento imposto dal rigorismo fascista inizia la giustificazione dell'adagio nostalgico si stava meglio quando si stava peggio feroci rapine e spietate esecuzioni insanguinano le strade diversi criminali spesso giovanissimi non esitano a giustiziare malcapitate vittime anziani benestanti commercianti tassisti prostitute queste sono categorie principalmente ricorrenti per sottrargli a dir bene un incasso giornaliero o punirle di uno sgarro o di un gesto considerato tale al traffico di armi si affianca poi e prende a diffondersi dalla fine degli anni 50 primi istanti anche il traffico di droga in scala diciamo massiva poi ci sono gli omicidi della lucida follia le soppressioni di donne scomode o disprezzate rimaste senza giustizia gli orrori sociali della più scioccante patologica amoralità che da genova a perugia da vienna alla california risuonano in un morboso tam tam mediatico sui giornali come nelle più o meno turbate le conversazioni quotidiane e vediamo no tutte queste serie di categorie che vediamo dagli articoli di giornale degli anni 50 e 60 la sposina scomparsa la studentessa sgozzata la cameriera strangolata la domestica licenziata che ha ucciso l'anziana signora con 30 coltellate tutto vero e suor scolastica suor scolastica suor scolastica ha fracassato il cranio a suor annetta col batticarne perché voleva perché questa voleva farla internare di nuovo tutti i titoli di giornale e come prospettiva come focus pensare alla non ti dico alla categoria degli assalti alle coppiette ma diciamo le aggressioni alle coppiette o le rapine che secondo me quelle che emergono nella documentazione anni 50 60 cioè che te puoi leggere trovi ogni tanto qualche articolo o insomma inchiesta su le coppiette che si appartano nei boschi eventuali aggressioni guardoni allora interessante un po sfrucugliare il materiale giornalistico pochissima la bibliografia e alcuni articoli tanto si trovano che parlano di questo contesto già negli anni 70 60 che anticipano il contesto di guardoni il contesto delle coppiette perché è una è una cosa che in sé finché non succede niente di strano non emerge alla narrazione non viene raccontata magari qualche film fa vedere la coppietta che si apparta se vi ricordate infatti è curioso nel mostro di firenza anche lo stesso topos della coppietta che si apparta vi ricorderete dico una banalità ma il topos della coppietta che va a fare le cosacce no Dylan dog i film dell'orrore tutti no cioè questo topos della coppietta che si apparta e che appartandosi e anche in certi contesti facendo sesso a livello di prospettiva moralistica va incontro a una fine orribile è uno standard è uno standard è un topo post di miliardi di film slasher di fumetti di qualunque cosa no a parte proprio le cose dedicate ai cacciatori di coppiette ma in sé la coppietta è partata e quindi questa tipologia quando viene riportata né nelle cronache giornalistiche ecco non è che ci può dire troppe informazioni sicure col mostro oggi c'è una polemica le critiche che più mi vengono fatte sono quelle di divagazione ma la gente non capisce il contesto di digressione di escursione contestuale cioè a non volete capire volete seguire il cazzo di vostro binario voi che dite ho sentito che mi hanno detto che fanno così allora vi dico è una prospettiva tanto che cazzo avete da fare avete qualche pista migliore a seguire no non ce l'avete siete un po strangolati allora datevi una calmata allargate un attimo la prospettiva e consideriamo le aggressioni rapine rapine accoppiette nel 1960 nei boschi di stupinigi nel torinese maggio giugno 1960 rapinatori di coppiette presso stupinigi noti come i banditi della luce gialla siamo nell'estate del 60 la prima aggressione a una coppietta nei boschi di stupinigi che venne denunciata ebbe in realtà luogo l'anno prima venerdì 17 luglio 1959 gli studenti di architettura ezio villa di 23 anni e anna cavallero di 23 anni anche lei appartatisi con la giardinetta della ragazza in un piccolo spiazzo presso i boschi di stupinigi sono a sedere sull'erba accanto all'auto quanto poco prima della mezzanotte vengono sorpresi da due uomini armati di torcia e di pistola che li perquisiscono e derubano lasciandoli illesi l'anno dopo la sera di giovedì 26 maggio siamo sempre d'estate il primo episodio 17 luglio ora 26 maggio perché lo fanno d'estate cosa fate rapinatori lo fate d'estate lo fate d'estate maggio luglio la sera di giovedì 26 maggio 1960 verso le 22 alle 3 di notte verso le 22 luciano massazza 23 anni e anna de angelis 18 anni due fidanzati appartatisi con la loro 1100 in una stradina nella boscaglia fra stupinigi e orbassano vengono improvvisamente aggrediti mentre si apprestano a ripartire 1982 no no mentre si apprestano a ripartire un uomo vestito di scuro li abbaglia con una torcia e li minaccia con una pistola intimandogli di scendere dall'auto e al tentativo di fuga della coppia fa fuoco tre colpi che frantumano i vetri del veicolo senza altri danni di rilievo chi era il loro aggressore un episodio simile si ripete nelle vicinanze la seguente domenica 5 giugno la seguente domenica 5 giugno sempre verso le 22 mentre sono appartati sulla loro 600 nei pressi di orbassano in un viottolo di campagna in località fornaci vengono aggrediti tuglio vaudagnotto 19 anni e delia mariani anche lei 19 anni un uomo a volto coperto e armato di pistola li minaccia e li rapina al tentativo del malintenzionato di separare i due la coppia reagisce chiamando aiuto e mettendolo in fuga tre giorni più tardi mercoledì 8 giugno vicino al locale cimitero sulla dora vengono aggrediti in macchina carmelo montelepre di 28 anni e dina folletti di 27 in questo caso quattro individui bendati col viso camuffato di cui uno armato di pistola gli intimano di scendere per poi perquisirli e derubarli di ogni valore lasciandoli infine illesi la sera seguente di giovedì 9 giugno è la volta di giuseppe cantarella 22 anni il magiacone 20 anni similmente sorpresi da quattro malvimenti nella loro 550 giardinetta presso lo scalo dora e rapinati similmente oltre a questi citati vengono da quel momento segnalati anche altri casi occorsi nella zona e precedentemente non denunciati è il caso di altre due coppie in entrambi i casi rapinati da due malvimenti in circostanze analoghe i responsabili vengono indicati da alcune vittime come meridionali nello specifico calabresi dalla voce questi stessi si rendono protagonisti nella serata di venerdì 17 giugno di una sparatoria con i carabinieri che che loro cominciano per fuggire da un posto di blocco alle porte di bruino da questo ulteriore episodio carabinieri identificano infine gli immigrati calabresi bruno putrino di 27 anni bracciante agricolo e giuseppe abate 22 anni manovale loro verranno arrestati la settimana seguente e condannati nel giugno successivo per le rapine e le tentate violenze a danno delle coppie di orbassano e di orbissano bastano e stupinigi rispettivamente vengono condannati a 21 e 9 anni di detenzione non di meno loro vengono condannati e continuano le aggressioni e le rapine ai danni di coppiette nel torinese già nel febbraio del 61 vengono arrestate altre due bande una di piemontesi un'altra di siciliani responsabili di rapine ai danni di coppiette appartati eppure poco dopo la mezzanotte di domenica 3 settembre 61 un'altra coppia di fidanzati marco de giuli e anna maier tutti e due di 21 anni viene rapenata a lungo lungo il sangone da due misteriosi aggressori mai identificati ma il contesto torinese è interessantissimo perché non finisce qui poi si va avanti e ci sarebbero la banda del baule quelli che riportano nella realtà il modello dei drughi di arancia meccanica cioè fanno come arancia meccanica e qui li imperversano per un lungo periodo facendo molto peggio di questi di questi che abbiamo visto che sono già diverse bande quelle che abbiamo visto ma ce ne sono altre diventando molto più violenti e cominceranno anche a morire a uno o due della coppia o anche la coppia e fino all'estate del 65 culmina questa specie di ascesa di caccia alle coppiette il 65 sempre nel torinese mi riferisco una solo area e si verifica questi episodi o in piemonte gli episodi del mostro delle coppiette di desio giarrusso o ad alessandria balbo altro che ammazza un ragazzo che sorprende con la sua fidanzata solo senza motivo lo copre di coltellate e poi pietro di snardi li ho già citati e queste erano alcune non che questo debba dire niente sul mostro di firenze però il monitoraggio di queste casistiche quando vedi la ricostruzione che magari di cose sopravvissute ti dà dei flash di ricostruzione avete visto con gli esempi in cui la coppietta cerca di andare via o come si avvicina con la pistola con la luce con quali armi capito da delle visioni che ci vengono di dette reali noi che siamo abituati a congetturarle per questi flash allora chissà che monitorando questi casi di aggressione a coppiette uno o l'altro o un altro così ti dà delle prospettive magari una volta ti può avere non ti dico un'illuminazione ma ecco questo era il mio misero contributo per oggi me la posso cavare con questo miserando quarto d'ora no perché sono basito o sono stato non vorrei fare mai pubblicità se nel frattempo ecco se voleste potreste anche dare un'occhiata al mio nuovo lavoro che ho fatto lo trovate sul tubo dedicato al delitto di calenzano anzi ringrazio ufficialmente angelo che mi ha incoraggiato il giorno prima della prima ecco non so potreste dare un'occhiata e valutarlo positivamente come è uno studio abbastanza attento e la seconda parte spero di farla uscire fra qualche mese per quest'ora me ne torno a montare anzi poi ne riparleremo spero che possa essere sufficiente io potrei andare avanti perché avevo due altri orizzonti su aggressione di coppiette ma è una cosa molto organica che mi riservavo di riproporvi un'altra piccola pillola per non esagerare troppo queste tipologie proprio della prima repubblica in nero perché subito dopo la guerra l'italia è quasi militarizzata anzi è un po' anarchizzata e un po' militarizzata tutti hanno le armi una larga vasta parte della popolazione è armata non ti dico metà ma è diverso da oggi sono tutti sul chi va là quindi anche scarsa figura scarsa fiducia verso le forze dell'ordine verso le istituzioni cioè l'impressione di essere un po' a se stessi quindi la tensione è molto alta e io credo che sia scontato e naturale così come gli anni di piombo sono una conseguenza di questa temperi così il mostro di Firenze chiunque fosse va compreso e ricercato io non vorrei rimanere strangolati da assunti di profilazione cioè capire che chi arriva a fare una cosa così estrema e la sapete tutti non c'è bisogno di riesplicitarla quella direzione così estrema ha un sostrato le cose più banali non è uno che comincia a uccidere in quel modo è uno che ha dimestichezza con la pratica omicidiaria ha all'arma da fuoco, ha all'arma bianca e quindi queste tipologie di aggressione a coppiette che molte sono per rapina cose che ho già ripetuto non vorrei essere veramente scontato però lo scenario degli anni 50 ha un sacco di delitti risolti e perché eravamo chiaramente, era abbastanza facile fare un delitto che rimanesse risolto ai tempi eppure alcuni li beccavano ancora e poi un giorno vorrei parlarvi del caso della topolino scura il misterioso sparatore a Firenze che a bordo di una topolino scura terrorizza con episodicità annuale le notti fiorentine fra il 52 e il 54 prendendo di mira bersagli apparentemente casuali ma rigorosamente maschi, adulti, a piedi o in bici e fortunatamente senza conseguenze mortali però gli spara ci sono sei assalti accertati proiettili calibro 22 su sei assalti accertati il bilancio è di un solo ferito grave e poi qualche graffio, bruciatura, un grande spavento e si verificano gli episodi nel 52 in via a un lagotti poi al Galluzzo, in via del Borghetto, sempre nel 52 in via delle Cinque Vie in via di Villamagna a Molin del Piano, nel 53 via dei Bruni, 54 e questo spara dal febbraio 54 scatta in città parallelamente alle frenetiche indagini l'isteria collettiva ad avvistamento di topolino scure con segnalazioni non riscontrate a Rifredi, Piazza della Libertà la gente sclera ogni volta che vede una topolino scura via di Michelangelo come a Vallina, Candeli e Rosano da allora non vi sono più attacchi del genere a Firenze anche se uno sparatore casuale su una topolino scura viene segnalato nel marzo seguente nel Grossetano e a Roma e poi nell'aprile del 61 ancora una misteriosa topolino scura tornerà a sparare contro le vetrate dei negozi ok, vi chiedo scusa vi saluto buon proseguimento buon proseguimento e a presto di sentirci